Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo. Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in qualche punto dei corridoi infiniti del tempo. Grazie per la visione!